A chiudere l'estate della BCC Arena è un pesarese, fanese, cosa diciamo Gasture? Io direi soprattutto una persona straordinaria che ha fatto un documentario bellissimo e che sarà messo in scena questa sera. Sono contento anche perché rivolgo l'invito a coloro che avranno modo di osservare questa trasmissione a seguire le ultime tre puntate del documentario fatto. Una volta fa c'erano i campanili. Il titolo esatto è Una volta fa c'erano i campanili. C'erano, erano sette, sono stati tutti abbattuti dagli tedeschi, non dalle bombe degli angloamericani e quattro di questi eri costruiti, tre in malo modo, lo sottolineo, uno bello come era e dove era. Quindi in realtà è un documentario che è un omaggio alla città di Fano. È un omaggio alla città e soprattutto voglio dirlo questo, è un invito anche, lo apprendono questi gli insegnanti perché abbiamo realizzato delle chiavette che poi ne faremo omaggio a tutte le scuole di Fano, dalle elementari alle scuole superiori. Benissimo, quindi chiusura della stagione della BCC il 2 settembre con Una volta fa c'erano i campanili. Grazie a tutti.